Buongiorno, venerdì 4 gennaio, giornata tetra, nuvolosa, un po' di freddo, praticamente niente di buono. Allora, cosa parleremo oggi? Parleremo di un tema molto sofisticato, complicato e anche un po' latente che gira spesso nella nostra mente e che non abbiamo la forza di poter estrapolare certi pensieri in determinati momenti. Però prima di iniziare devo sempre fare una premessa che vale per tutti i discorsi che faccio. A parlare, a fare un video, a tirare fuori un tema, a portare avanti un tema, a svolgere un tema, a occuparsi di un tema più o meno valido, più o meno semplice, più o meno importante nella nostra società, sono le persone, pochissime persone che fanno di lavoro proprio questo, soprattutto nei talk show, ma che poi nella realtà delle cose tutte queste discussioni che vengono fatte, soprattutto, ripeto, in televisione, non portano a niente. Ma perché non portano a niente? Perché non vengono recepite queste discussioni dalle persone? No, perché si rivelano inesatte, perché si rivelano addirittura a volte fuori dal tempo. Cioè una persona svolge un tema ma poi questo tema non ha nessuna attinenza alla realtà e quindi è un qualcosa che scivola via, come l'acqua quando scivola sui vetri, se ne va giù e alla fine il vetro si asciuga anche se resta un pochino sporco. Tutto qua. Questa è la realtà. E allora la morale qual è di queste cose? Che chi ha un pizzico di intelligenza è un qualcosa no di raggiunto, non è qualcosa che tu vai a prendere, a conquistarti, a imparare, a studiare. No, l'intelligenza è una virtù innanzitutto e soprattutto una ricchezza che è come i soldi, chi ce l'ha se ritiene i soldi e la ricchezza chi ce l'ha se la tiene. Tutto qua. Avete capito? Benissimo. E allora, ora andiamo avanti dopo aver fatto questa premessa che è d'obbligo, perché allora non ci si capisce. Allora questo vale per i miei amici e anche per chi ha la fortuna o la sfortuna di ascoltare queste fuori dalla cerchia. Di cosa voglio parlarvi? Di un fatto molto importante che succede a molti di noi ed è successo anche a personaggi che sono entrati nella storia dell'arte, che può essere la poesia, la letteratura in genere, i romanzi, come li volete chiamare questi fatti. Molti di questi personaggi, anche ricchissimi da un punto di vista materiale, hanno avuto una vita quasi normale, ma poi sotto sotto si è sviluppato dentro la propria mente un qualcosa di personale e qualcosa che restava sempre ed è rimasta per molti sempre nascosta, che non si è mai realizzata, è rimasta latente nella mente dell'individuo. Cerco di essere più chiaro e di fare un esempio pratico. Mettiamo una persona oggi di 50 anni, sposata normalmente con una buona posizione sociale che occupa un posto di rilievo nella nostra società, che a questa persona non mancano ricchezze, non mancano felicità in famiglia, non manca quasi niente, ma può succedere che dentro questa persona esemplare, potrei dire quasi integerrima, possa scattare un qualcosa che va avanti e indietro nella sua mente e che difficilmente questo pensiero, questa tendenza, questo desiderio, può essere da qualsiasi, se no non riesce ad uscire fuori. Per vari motivi, possono essere per pigrizia, questa cosa non viene tirata fuori e non viene realizzata, per pudore, per principio, perché bisogna rispettare altri principi e questo principio che si creerebbe in seconda battuta non può essere realizzato. Non so se avete capito, ma comunque facciamo finta di sì. Per tanti motivi questa cosa resta dentro di noi e questo pensiero, questo concetto, questo desiderio, questa voglia, chiamatela come volete, vive in noi e ci dà forse una spinta illusoria, indubbiamente è una spinta illusoria, per farci vivere la realtà e la vita di tutti i giorni con grande serenità e forza di volontà. Non so se avete capito il concetto, ho paura di sì e no. Comunque è questo. Parlando io con molti personaggi, e questo quando avviene, avviene ovviamente dopo aver superato una linea della nostra presenza su questa terra. Non può essere realizzata questa cosa, esempio, a 25-26 anni. È impossibile perché bisogna realizzare prima le cose normali. Tutto ciò avviene dopo in una parte più alta della nostra vita, verso 50-60, grossomodo. Certo, non alla mia età perché io sono ormai verso dal di là, però diciamo che 50 anni dovrebbe essere il tetto giusto per poter vivere questo che ho detto come un qualcosa di strano che resta sempre dentro di noi, che esiste, che non riusciamo a mettere in pratica, non riusciamo a buttare fuori, non riusciamo questo, ripeto, desiderio, questa voglia, questo principio che potremmo creare, questa attrattiva, ma non ce la facciamo perché non riesce ad uscire fuori, perché reputiamo giusto non far uscire fuori e lasciare dentro di noi quello che stiamo vivendo. Abbiamo detto anche i motivi possono essere vari, per paura, per pudore, per principio, nel senso di rispettare altri principi, per vergogna, per tanti motivi. E questa cosa che noi viviamo, ripeto, che non è sempre la stessa, può essere di varia natura, esempio noi prendiamo una che può essere esempio sentimentale, sessuale, cioè noi abbiamo 50 anni, abbiamo una bella famiglia, abbiamo una bella moglie, abbiamo avuto 3-4 figli, una bella posizione sociale, nonché economica, perciò in un determinato momento dentro di noi nasce un'attrazione per un'altra donna. potrebbe essere anche oggi per un uomo, e uno non ha il coraggio di ammetterlo, potrebbe essere anche per un uomo. E questa attrazione, questa voglia, noi la viviamo dentro di noi, giorno dopo giorno, in maniera indicibile, indicibile perché non siamo neanche capaci di poterlo dire a noi stessi, perché a volte può essere qualcosa di proibitivo. Se uno, un tizio normale, ripeto, con una famiglia normale, con una posizione sociale di un certo livello e con una ricchezza non indifferente, di colpo si va a innamorare del marito di un'amica, cioè di un altro uomo, cioè a mettere un'omosessualità in età avanzata, dopo che uno ha fatto un cammino quasi netto, perfetto, come fanno i cavalli quando saltano gli ostacoli. Ha fatto un percorso netto della sua vita, perfetto, netto e perfetto, e poi di colpo si accorge che c'è una tendenza dentro di sé, un desiderio, una voglia, un qualcosa, che non ha il coraggio di ammettere. Ripeto, neanche a se stesso. E queste cose succedono, queste cose succedono. Noi prendiamo Dante, Dante ha ammesso, non so in quale periodo, di amare un'altra donna che era Beatrice, eppure lui aveva quella donata, che era una brava moglie, donna che gli ha dato tre figli e poi un altro l'ha avuto in maniera allargata con un'altra donna, ha avuto quattro o cinque figli, se ne parla di cinque Dante, quattro sicuro, tre con la moglie, uno fuori e un altro dubbio. Perciò un bel momento ha avuto questa tendenza, questa attrattiva per questa donna, questa attrazione quasi fatale che ha talmente idealizzato e non si sa, molti pensatori contemporanei al nostro Durante, perché si chiamava Durante, poi chiamato il diminutivo di Dante, non sanno se effettivamente ci sia stata mai questa donna, anche se poi si è ammesso che questa donna sia esistita, si sono fatti dei nomi, ma non si sa se Dante ha avuto mai la forza e il coraggio di parlarle e di toccarla o di spiorarla. Tutto è rimasto nella sua mente. E stiamo parlando di un grande, che era un sommo poeta, uno che ha dato la spinta a un cambiamento veramente radicale nella nostra penisola, con la nascita possiamo dire come pioniere della lingua italiana. Attenzione, non è che stiamo parlando di uno qualunque, eppure questo personaggio è stato colpito. Ma quanti personaggi, ripeto, persone normalissime, persone che hanno avuto un percorso di vita netto e corretto, come certi cavalli quando saltano gli ostacoli, che fanno il percorso netto. Però poi un bel momento nella loro vita, esempio, verso i 50-55 anni, incomincia a svilupparsi nella propria mente qualcosa di strano. Qualcosa di strano che è strano anche per il soggetto che la vive, questa esperienza tutta mentale, a volte tutta spirituale, ma che poi non può esporre a nessuno, forse neanche a se stesso, perché se ne vergogna. Mettiamo la vergogna in questo momento, perché se ne vergogna, esempio, perché magari può essere l'attrazione verso un bel ragazzo, oppure il marito di un'amica, cioè verso lo stesso sesso. E allora se ne vergogna e non ammette neanche a se stesso perché pensa, come è possibile? Io ho avuto tante donne, io mi sono formato una famiglia, ho avuto dei figli, ho una posizione invidiabile, percorso veramente netto di vita e oggi mi ritrovi in questa situazione che può essere angosciante, che può essere un qualcosa che ti può stravolgere la vita, che non ti fa andare avanti, che è dentro di te un qualcosa di indecente, è il termine giusto, cioè è l'aggettivo giusto indecente, perché uno non accetta mai una cosa del genere, ma perché può succedere? Perché i tempi oggi sono maturi per poter dare le possibilità a certe persone della nostra società di avere delle esperienze anche visive, non diciamo dirette, ma anche indirette, nel vedere qualcosa che incomincia a diventare normale ed essere questa cosa non normale un tempo, ma oggi normale, perché viene accettata da gran parte della nostra società. Non so se avete capito un cazzo, ma comunque è così. Allora uno vedendo e ripetendo questi atti una volta impensabili e da mettere diciamo con la X rossa immediata, oggi queste cose vengono quasi almeno viste, vengono accettate per quello vivere, ma che per molti anche oggi, nel terzo millennio, non vengono considerate cose varie. Ma siccome queste cose noi le subiamo anche da indirettamente, passivamente, attraverso la vista di questi fatti che ci vengono pubblicati, buttati là, pubblicizzati, in trasmissione apposite, in pubblicità, in film, in qualsiasi, diciamo, momento della nostra giornata, quando soprattutto siamo passivi e cerchiamo di guardare quel quadratino dove c'è di tutto ormai. E allora, vedendo e ripetendo queste cose, in noi potrebbe scattare prima il dubbio e poi magari un desiderio profondo di voler provare certe esperienze. Tutte queste cose non sono state maltrattate. Negli anni Sessanta, prima di dire una parola in radio e in televisione, si doveva fare una cernita, si doveva fare quasi un processo. Tutto ciò che veniva detto e fatto veniva processato da testi di un certo livello. E una cosa poteva essere fatta se rispettava certi principi di quegli anni che dovevano elaborare e rispettare una certa morale sociale e anche televisiva e culturale e artistica. Non so se sono stato chiaro. Ed erano severissimi. Oggi invece non c'è nessun processo, non si processa niente. Si improvvisa, si va a Sanremo e ci si toglie quasi pure i pantaloni, fra poco pure le mutande. Ed è una cosa normale. Si insulta in alcuni atteggiamenti anche figure sacre della nostra spiritualità. attenzione perché la spiritualità esiste. Poi se giusto o sbagliato è un altro punto ma la spiritualità esiste. Non dimentichiamoci che noi siamo una nazione oltre che della mafia anche del Vaticano, della casa reale, possiamo dire reale del nostro Signore. E perciò certe cose si dovrebbero fare con una certa attenzione, con una certa cautela e tutte queste cose invece avvengono e noi siamo passivi e schiavi di certe immagini che fino a qualche anno fa erano proibite, erano principi proibiti, impensabili, ma che oggi siamo o di Riffo o di Raffa costretti a subire e in noi può scattare qualcosa in più che fino a qualche anno era impensabile. E quando ciò accade sono delle cose gravissime. sono delle lotte, dei lavori mentali che ti possono prima dare fastidio, poi disturbare e poi distruggerti. Cioè molte volte arrivano dei malesseri mentali, oggi siamo, ce l'elenco, potremmo fare un catalogo, che non si capirà mai e non si tenta di capire da cosa sono stati prodotti questi malesseri. Cioè la scienza si dovrebbe preoccupare, io lo dico tra parentesi, cioè attenzione, io ho studiato tantissima scienza da ragazzo, ma ragazzo a 12, 13, 14 anni, anche se poi ho avuto una brutta, come dire, un brutto boomerang che mi è venuto addosso, che io studiavo soprattutto medicina, iniziai con un'incirropedia medica comprata a Milano e quando finì l'anatomia vastissima di volume iniziai con le patologie. Purtroppo dopo arrivato quasi alla fine di queste patologie perché io divoravo i libri, me li sono sentiti tutta addosso queste malattie e dovetti smettere, ma il mio principio scientifico che nasce da certe domande è sempre in me, io tutto processo attraverso dei principi scientifici che vengono come dire palesati queste cose o palesati questi principi attraverso delle domande che io mi pongo e che cerco di dare delle risposte e la prima risposta che io mi sono dato dopo tante domande ma perché questi malesseri mentali che ormai sono diciamo una moda oggi chi è che non ha l'ansia l'ansia ce l'hanno tutti l'ansia è come quel vestito blu che va su tutto su tutto basta dire l'ansia va benissimo poi non si sa che cazzo è quest'ansia non si sa qual è quell'altro malessere qual è quell'altro diciamo conflitto che si ha nella mente tutte queste cose non si sanno perché la scienza purtroppo è pilotata in questo momento da una locomotiva economica che ti dice e ti porta dove vuole essa questa locomotiva ma non c'è la libertà di pensiero e di capire ciò che succede che dovrebbe essere il patrimonio di uno scienziato me ripeto ignoranti uno scienziato dovrebbe avere un patrimonio che oltre all'intelligenza indubbiamente perché si parla tutto di intelligenza ma quella libertà di potersi cimentare in ambiti non scoperti ma da scoprire e dare delle risposte a dei punti interrogativi o dei punti difficili del nostro malessere quotidiano che può essere mettiamo l'ansia che può essere perché succede che un calciatore di colpo va in crisi totale pur avendo soldi moglie fidanzate amanti alcol droghe e tutto però va in crisi succede qualcosa e allora la scienza si dovrebbe preoccupare avendone le capacità prima e soprattutto le libertà ma oggi le libertà non è che vengono tolte da regimi non ci sono i regimi tranne qualche nazione ma non sono proprio questi pensatori questi dittatori a togliere questa libertà ma c'è un contesto mondiale continuo oggettivo che ci toglie giorno dopo giorno queste libertà esempio io un bel momento faccio il medico faccio anche lo scienziato mi occupo di tante cose poi un bel momento vorrei occuparmi di di uno specifiche di una nicchia di un problema che ancora non è stato risolto e mi rendo conto che per affrontare e stare in quella nicchia ci vogliono un sacco di soldini e non avendo io personalmente quei soldini è uno stato che non esiste dietro di me come può essere quell'italiano che non gliene ha fatto un cazzo della ricerca e della scienza io sono costretto poi a volare o a navigare verso altri porti verso altri litri perché capisco che continuando in quella nicchia ad occuparmi di quel problema e a trovare delle risposte a quel problema non andrò da nessuna parte se non a fare poi il pazzo e la fame e questo onestamente oggi nel terzo millennio si cerca con uno degli studi alle spalle di evitare ecco perché non c'è questa libertà è una libertà che non si trova da una colpa oggettiva che nasce dal nostro modo di pensare di agire mondiale non ci sono dei dittatori che cercano di privare la libertà di ricerca anzi i dittatori sono stati sempre favorevoli affinché uno possa scoprire qualcosa attraverso appunto questi pensatori e poi accollarsi i meriti non è la prima volta che succede non è la prima volta che succede ma non è nel campo scientifico nel campo sportivo nel campo intellettivo e così via perché giustamente il dittatore poi dirà se quello è arrivato a raggiungere quegli obiettivi grazie al mio modo di pensare alla mia dittatura avete capito perciò questa non libertà di pensiero non nasce da determinati dittatori che ci sono in taluni stati ma perché c'è una privazione una come possiamo dire una povertà congiunturale mondiale che non permette i benpensanti seri quelli là che si chiamano scienziati di potersi occupare di certi problemi oggi terribili che ci affliggono che ci annientano che ci mettono cappavoco che ci mettono in ginocchio e che non ci fanno vivere una vita quel po' di vita che dovremmo vivere in maniera serena avete capito un cazzo allora uno dei problemi che io ho toccato ad esempio perché oggi quando succede che in una persona che ha fatto un percorso netto di vita con un buona infanzia e poi adoresce per arrivare fino al matrimonio ai figli al posto di lavoro di un certo livello a una certa agiatezza e così via un bel momento a 55 anni questa persona incomincia a provare un desiderio che non aveva mai provato in gioventù verso esempio lo stesso sesso questo è un fatto che distruggerà lentamente quell'individuo lo distruggerà perché non avrà il coraggio la forza di poter ammettere a se stesso che ciò sta nascendo e che si sta sviluppando nella propria mente a questo punto ci dovrebbe essere la scienza a dirci sì questo può succedere ma è anche vero che tutto ciò si può rimuovere attraverso questo processo attraverso questa pilloletta attraverso questo programma attraverso questo modo di rapportarsi con la propria famiglia con i propri amici e così via ma seguendo certe linee ovviamente che ci deve dettare alla scienza ma tutto ciò non esiste se noi ci troviamo di fronte a uno che si vergogna la vergogna non viene considerata dalla scienza quando invece oggi la vergogna lo dico in tutte le salsi dovrebbe essere considerata una malattia gravissima perché ci fa vivere male perché è un disagio per chi prova vergogna quando ha 15, 16, 17 o addirittura 25, 30 anni che è in età avanzata prova un disagio terribile che purtroppo lo certe volte lo butta lo va a relegare in punti impensabili della nostra società del vivere sociale ci sono degli disagi che a volte portano il soggetto a commettere degli atti estremi quante persone si sono suicitate che a prima vista magari stavano benissimo benissimo ma poi si è capito che quella persona magari era timida pur avendo tutto dalla vita pur avendo avuto un grande lavoro laurea un posto diciamo fortissimo in famiglia una grande famiglia poi si era creata una grande famiglia un bel momento non ce l'ha fatta più che a 45 46 anni 47 anni questa persona si è suicidata io per chiudere mettiamo che ho studiato molto attentamente quando andavo a scuola anche se non rientrava nel stato forse uno studio dopo le scuole che ho affrontato per me è stato Cesare Pravese io ho tenuto sempre davanti a me questa figura dici ma perché ma perché si è suicidata perché tu hai paura che il giorno possa fare qualche scemenza no perché vorrei capire come una persona del genere che ha un posto rilevante che ha preso un premio strega qualche mese prima addirittura addirittura che ha evidenziato e palesato la sua grandezza di scrittore di uomo di cultura e di letteratura un grande traduttore un grande uomo una grande posizione sociale questo se la faceva con persone attenzione col papà della Kitsburg della Kitsburg il papà della Kitsburg attenzione che era la quinta figlia della Kitsburg e che aveva una sorella un'altra sorella e tre fratelli che questa sorella si è sposata con il signor quello di Torino di Ivrea dell'Olivetti il signor Adriano cioè vi rendete conto e poi se non erano industriali ricchissimi c'era il salotto dove c'era il padre della Kitsburg cioè che poi la Kitsburg era una leve attenzione la Kitsburg Natalia Kitsburg che portava e ha portato anche dopo la morte del marito ha mantenuto appunto il cognome del marito ma lei era una leve e Giuseppe Levi che era un grande professore universitario è stato per dirvele qualcuna anche il professore una persona burbera peggio di me che che gridava che picchiava i figli tutti e trattava veramente con la frusta i propri discepoli ma si è bantato sempre di non essere mai fascista e allora ha avuto per dire per dire dove viveva Cesare Pavese era in questa diciamo amicizia in queste famiglie che lavorava insieme alla Kitsburg lei in Audi ci aveva un padre questa Levi questa Natalia un padre poi diventata Kitsburg che ha avuto Montalcini parente doveva essere una parente perché anche quella è una Levi e poi altre due ha avuto tre premi Nobel lui è stato il professore di tre premi Nobel il papà di Natalia Kitsburg di Natalia Levi Giuseppe Levi avete capito in quale ambiente stava Cesare Pavese Cesare Pavese eppure eppure c'era qualcosa dentro di lui che non andava che lo faceva soffrire che lo faceva sentire infelice pur avendo tutte le ricchezze sia culturali e sia anche materiali perché non è che faceva una brutta vita eppure si è suicidato noi dovremmo capire cosa porta questa persona che poi non può magari non è Cesare Pavese è un altro per noi sappiamo Cesare Pavese perché abbiamo fatto questo cammino di studi e abbiamo scoperto alcune di queste persone che hanno fatto la stessa fine io mi sono soffermato tantissimo su Cesare Pavese e allora succede qualcosa ma mi chiedo la scienza cosa risponde a distanza di tanti anni questo è successo nel 1950 stesso anno che Pavese prese il premio strega poi aveva preso tanti altri premi anche prima e qualche mese dopo in agosto in una locanda in una specie di alberghetto si è suicidato scrivendo mi scuso con tutti i miei amici ha detto così però dico mi scuso non ve la prendete e poi ha messo una virgola non fate molti pettevolezzi punto però si sa che se andiamo a spucciare che c'è stato un grande innamoramento per una donna che non ha corrisposto appieno il suo amore il suo innamoramento ci sono stati dei fatti che bisognerebbe però la scienza non è che studia questi fatti questi fatti invece oggi dovrebbero essere messi sui libri di medicina e far capire alle persone che si vogliono occupare che studiano cosa succede in determinati momenti della nostra vita invece la scienza non fa niente non si muove e ai box di stato non glielo ho fatto niente perché devono fare altre cose avete capito qual è e allora questo è il mio grande rammario che non si possano portare avanti delle temate oppure cercare delle risposte a dei problemi che noi quotidianamente viviamo terribilmente questo e allora perché non si riesce perché a volte non mancano i cervelli ripeto sempre che i cervelli sono quelle persone di un'intelligenza massima e l'intelligenza è come la ricchezza materiale chi ha i soldi se li tiene e chi ha l'intelligenza se la tiene non è che l'intelligenza uno la può come i soldi tramandare o far passare a destra e a manca a qualche familiare no io se ho dei miliardi posso lasciarli questi miliardi ai miei figli a un amico a una troietta a una moglie a chi voglio ma se io sono una persona con un livello di intelligenza altissimo io questo livello di intelligenza non lo posso né insegnare a un'altra persona né trasmetterlo né trasmetterlo questo è poco ma sicuro l'intelligenza alla fine amici chi ce l'ha se la tiene e oggi purtroppo purtroppo c'è una carenza di intelligenza che fa paura fa paura e anche questo la scienza ancora non ha preso in considerazione perché nel terzo millennio non si cerca di studiare l'intelligenza ma si cerca di studiare la non intelligenza che poi si chiama pazzia perché un pazzo sicuramente non è intelligente perché se noi mettiamo che un pazzo è solo malato no un pazzo è malato ma è arrivato a questa malattia perché è poco intelligente una persona intelligente dato che l'intelligenza è inutile dire parolone popipa adattamento che sia data no l'intelligenza è un qualcosa che abbiamo dentro di noi che non sappiamo da dove provenga chi ce l'ha regalata e chi l'ha messa là che serve per regolare tutto dico tutto da un punto di vista intellettivo spirituale fisico tutto ciò che noi facciamo l'intelligenza sa se dobbiamo stare zitti l'intelligenza sa se dobbiamo parlare l'intelligenza sa se dobbiamo incazzarci l'intelligenza sa se noi dobbiamo usare un bastone per dare quattro colpe nelle spalle o sulle spalle a qualcuno uno l'intelligenza sa e ci dice se noi in certe circostanze dobbiamo rispettare la moglie e lasciare perdere mettiamo una fighetta là che te la fa vedere proprio senza mutante tutte queste cose è l'intelligenza che ci guida e ripeto questo regolatore può essere mettiamo come un regolatore del nostro modo di vivere della nostra vita chi ce l'ha se lo tiene chi non ce l'ha purtroppo fa tante altre cose ma queste cose che poi diventano pazzoide e pazzie non è che sono una malattia la pazia la pazia è una malattia ma nasce da mancanza di intelligenza perché la persona intelligente sa subito anzitempo dove andrà a finire quel cammino ipotetico rispettando determinati principi se io non ho intelligenza difficilmente capirò cosa mi succede se mi drogo se non sono intelligente devo provare quel cammino per poi capire ma se sono intelligente io quel cammino lo posso anche vivere ipoteticamente nella mia mente e capire dove andrò a finire se affronterò quella strada mentre chi non ha l'intelligenza deve affrontare la strada e quando finirà quella strada c'è la tomba pronta che lo aspetta ma così anche per l'alcol così anche per certe amicizie così per certe avventure della nostra vita sociale è sempre l'intelligenza che ci apre ipoteticamente nella mente e ci mette davanti il cammino che potremmo affrontare è sempre l'intelligenza ci dice se quel cammino lo possiamo affrontare o non lo possiamo affrontare a questo punto l'intelligenza siccome dobbiamo continuare e chiudere il tema che avevamo iniziato quando ci scatta qualcosa e noi abbiamo avuto tutto dalla vita e ci scatta qualcosa che non possiamo neanche ammettere a noi stessi o dire a noi stessi l'intelligenza cosa ci dice ma l'intelligenza ci deve dire qualcosa e ce lo dice può essere una risposta soggettiva ma noi non abbiamo bisogno di risposte soggettive noi avremmo bisogno nel terzo millennio di risposte oggettive ed essendo appunto oggettive queste risposte devono essere scientifiche perché devono valere per un australiano per un italiano per uno scozzese per un polacco per uno che sta al polo nord per uno che sta al polo sud per tutti ci vorrebbe una risposta scientifica universale e queste risposte non ci sono e allora quando uno si va a invagire di una persona dopo che aveva fatto un percorso netto di vita con soldi lavoro moglie figli amicizie tutto tutto e poi succede qualcosa come cosa dice la sua intelligenza può essere una risposta soltanto soggettiva e una risposta soggettiva in quel caso non serve a niente perché non aiuterà perché non sappiamo quella risposta come sarà cioè l'intelligenza si deve anche appoggiare su un fatto universale e poi fare la scelta ma se quel che sta processando l'intelligenza è proprio personale non ha basi all'esterno che provengono appunto dalla scienza difficilmente che quella risposta che darà quell'intelligenza soggettiva possa essere una risposta seria e universale no è la scienza che ci deve dare delle risposte universali che oggi purtroppo non ci dà perché gli scienziati non esistono la libertà di pensiero di certi personaggi non c'è in quanto viviamo una schiavitù schiavitù che è oggettiva e mondiale che ci porta a non occuparci di certi certe nicchie del pensiero e della della scienza totale perché sono avventure percorsi che costano un mucchio di soldi e nessuno di noi ha quei soldi a disposizione per affrontare quei cammini quelle strade e poi in aggiunta c'è anche qualche stato come il nostro che dal punto di vista scientifico non aiuta nessuno e si è visto con l'ultima pandemia pandemia cosa abbiamo visto abbiamo visto che abbiamo medici ignoranti strutture che stanno falliscenti che stanno cascando sgarrupate proprio strutture sgarrupate un sistema sanitario che fa schifo che è stato distrutto e tutto il resto perciò oggi ci possiamo alla fine appoggiare e possiamo ascoltare l'intelligenza di un singolo ma l'intelligenza di un singolo di fronte a un problema esempio come quello di una persona di 55 anni che ha fatto un percorso netto nella sua vita avendo figli moglie soldi posizione sociale posti di comando e così via e che ha 55 anni nella sua mente scatta un qualcosa che lo mette veramente in ginocchio esempio quella persona normalissima col suo percorso netto di vita a 55 anni si innamora di un altro uomo del marito esempio di una sua amica cosa farà? soffrirà soffrirà in silenzio molte volte soffrirà al punto da da suicidarsi da suicidarsi e magari quel suicidio poi si darà una giustificazione extra una giustificazione che magari le persone non capiscono neanche cosa voglia dire quella giustificazione però si darà quella giustificazione perché non si andrà mai a scavare dentro il pensiero le disgrazie ve lo dico in parole povere di quella mente stravolta e disagiata giorno dopo giorno di fronte a un qualcosa che è sbucato di corpo e che da sola quella intelligenza del soggetto non ha potuto affrontare non ha saputo risolvere e lentamente quel disagio diventa sempre più esasperante più difficile da affrontare poi diventa una malattia poi diventa una bruttissima malattia e alla fine quella persona decide nella sua disperazione assoluta di farla finita ecco questa è un'intelligenza che non basta l'intelligenza deve essere anche universale non può essere soggettiva quando è soggettiva e l'intelligenza di un singolo non ha l'appoggio dell'intelligenza universale alla fine cede e fa una brutta fine io vi auguro ora una buona giornata e una risentirci a presto grazie a tutti